Oggi Cervinale e la Valle Caudina ospitano un grande personaggio della musica internazionale, cantante, produttore importantissimo. Nei nostri studi siamo felici di ospitare Fabrizio Venturi che sta elaborando un progetto anche grazie alla collaborazione dell'avvocato Marco Monetti anche per le nostre zone. Chi è Fabrizio Venturi? Venturi è un musicista, un cantante di spessore internazionale, ha collaborato con grandissimi artisti dopo aver vinto i Sanremo Giovani, ma soprattutto è persona che si interessa di coloro che hanno bisogno, soprattutto la sua attenzione focalizzata sui diversamente ambiti. Non a caso la prima giornata del festival che lui organizza a Prato, che poi dopo Sanremo è il festival più importante della musica italiana, viene dedicata proprio agli artisti diversamente ambiti. Come mai questa scelta? Ciao, buongiorno a tutti voi, ciao Peppino. Beh, perché questo? Ma secondo me la musica non ha confini, la musica è un bacino immenso, è il mare più grande del mondo ed è anche il mezzo di comunicazione più vasto, più importante e più forte. Perché? Perché non ha appunto limite, la musica viene ascoltata da tutti e per artisti ugualmente si intende un'espansione importante, cioè a livello proprio della comunicazione dell'arte. Perché non diversamente abile, così perlomeno chiamato, non può essere neanche un grande e immensa artista? Cioè guardiamo Ray Charles, Ray Charles era cieco e voglio dire le musiche di Ray Charles voi le conoscete. E tu l'hai collaborato con Ray Charles? Sì, io ci ho lavorato quasi quattro anni insieme a Ray Charles. Poi, vogliamo prendere una cosa nostra italiana? Va bene, Bertoli. Il mio festival, innanzitutto è il Didi di Music Festival, che si terrà a Prato dal 21 al 24 luglio, dove verranno premiati, io mi sono messo proprio accanto ai giovani con la mia etichetta discogratica, e ho creato questo festival. Questo festival abbraccia i giovani, secondo te martoriati dai talent. Perché il talent, secondo me, non sa che magari nel... Tu adesso, ciao Giovanni, un uomo a casa, perché sei un artista pazzesco, favoloso, e magari piangi dentro il garage o in casa perché non riesci a uscire. Bene, io nel mio piccolo cercherò di dare voce a questi artisti soffocati. In che maniera? Il vincitore del mio festival riceverà una borsa di musica di 50.000 euro, quasi, come produzione. Produzione vuol dire il disco, io affianco proprio il progetto dell'artista. Il disco, il DVD, la promozione d'avvevo a tutti gli store esistenti nel nostro paese e fuori anche. In più, sarà presentato al festival Sarremo 2017, il vincitore. Canterà live sempre a Sarremo 2017 nella cena di gala dell'apertura del festival. E in più riceverà una borsa di musica proprio in liquidi di 5.000 euro per supportarsi in questa promozione, perché tu mi sei e dici, bene, ok, hai vinto Peppino, bene, vai a farti la radio a Milano, come vai, il treno costa, bene, ti diamo anche una borsa di musica. Questo si svolge in queste tre serate. Lo screening viene fatto con i plichi, come Sarremo, e da lì arriveremo a compire i 36 partecipanti, il cuore. La prima serata parte appunto con i diversamente abili, perché non voglio penalizzare il grande mensartista giovane, sconosciuto, che si confronta con il normoabile. Vuoi per problemi fisici, oppure di pronuncia, o di cosa, però potrebbe essere penalizzato. Bene, ok, c'è questa categoria che si chiama il sogno più grande e anche lì ci sarà il vincitore, che il vincitore vincerà la promozione del disco uguale. In più canterà come ospite d'onore alla finale del festival. Questo è il mio festival, ma che dirti? Le indicazioni potete trovarle su internet, proprio sul sito del festival, che è www.dttmusicfestel.eu.it Personaggio strano per, diciamo, tra virgolette, per quanto riguarda il panorama artistico italiano. Ricordiamo che, a parte questa, le tue doti artistiche, tu sei il maggior produttore indipendente della scena del nostro paese. Indipendente significa che non si costruisce a tavolo in un talento, ma lo si va a cercare e lo si aiuta. Certo, Peppino. Sì, io sono il proprietario della DDT Music, che è un'etichetta discografica, che nacque nel lontano, non tanto, ma comunque nel 1997-1998, quando Alberto Testa diventò il mio produttore artistico. io ho detti fondo a questa etichetta personale per autoprodurmi. Adesso la mia etichetta discografica vanta il numero uno in pole position proprio per quanto riguarda le etichette indipendenti. La DDT Music è forte, anche grazie a un mio lavoro che è in tutto il mondo, che è caro padre. Caro padre è l'inno ufficiale della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, che è distribuito in tutto il mondo. La gara fu indetta nel 2005 alla morte del Santo Padre e poi è distribuito sotto contratto appunto per la santificazione. Ecco, grazie anche a questo la mia etichetta discografia ha preso proprio il volo e ora io voglio usarla appunto per rafforzare sia le voci dei più deboli, ma anche per dare un bastone forte dove lascia appoggiare gli artisti che magari cercano proprio quello che è un trampolino di lancio. Poi che c'entra? Io non sono la Sony Music, non sono una major, non sono una multinazionale, però uscendo con queste caratteristiche di un'unichetta del genere il passo da lì alla major è proprio... Anzi, spesso me le chiedono loro le coproduzioni, magari delle volte rifiuto io, però diciamo che secondo me è una delle porte principali per entrare nel panorama nazionale musicale. Ma come artista ricordiamo qualcosa di straordinario, tu hai avuto diciamo l'onore, l'onore e anche l'emozione di cantare per due volte davanti a Giovanni Paolo II, a questo Papa venuto dall'Est che tanto ha sconvolto la nostra storia. Sì, ha sconvolto in maniera proprio positiva, l'ha accarezzata proprio perché ha ricuscito secondo me quegli strappi che il mondo si era come una camicia strappata, l'ha ricuscita in maniera quasi invisibile, che non si vedano. È stato secondo me... Sì, io ho avuto la fortuna di cantarci due volte per il gran concerto di Natale, una volta diretto dal maestro Renato Serio, ho cantato il Magnificat del maestro Beppe Cantarelli. E la seconda volta invece una canzone mia, il secondo anno, una canzone mia, che è l'ultima poesia appunto scritta apposta, un messaggio a Dio dove dice, cioè io non faccio Christian Music, no, però copio passi della vita, io scrivo le canzoni dell'odierno e le volte ho dei messaggi da mandare anche al mio Dio, come il tuo, come il nostro, dove dice scusami Dio se noi facciamo tanta polvere qua giù sulla terra, ma abbiamo bisogno di te, vola un po' più basso, così ci vedi meglio e ci puoi aiutare. Questo è il senso della canzone. E io l'ho presentata, questa canzone, appunto davanti al Santo Padre. E lì è stata una commozione veramente importante perché cantare davanti a una persona del genere, secondo me, non ha limiti, non esiste altra cosa. Io ho calcato palchi importanti, veramente tanti, cantando davanti a centinaia di migliaia di persone, perché quando ho aperto i concerti anche in America, di Ray Charles, Billy Aido, Temptation, Madonna, ma hanno le emozioni che ho provato davanti a Giovanni Paolo II, è superiore alla grande a questa. In attesa del festival, noi speriamo, ci auguriamo, di vederti presto qui a Cervinara, magari per completare questo progetto di cui ancora non possiamo parlare. No, sì, non vi accenno niente, io sono qua appunto, innanzitutto per trovare, da oggi sei un carissimo amico, ovviamente per me l'amicizia è una cosa importante, anche tu sei un carissimo amico, per trovare, questo appunto mi è da trovare Marco, che è questo grande amico mio, ed è nato appunto, sono venuto anche perché c'era un progetto da dovere, non vi dico niente, non mi anticipo niente, però stiamo al caldo, perché tra un po' ci sarà una cosa molto importante che faremo insieme. Ma al di là di questo, proprio dico, è proprio bello il paese, è proprio bello il posto, fra l'altro adesso andrò anche a gustare la vostra cucina, e poi sicuramente sarà buonissima, e poi come tutto il sud, secondo me, io sono fiorentino, però le mie basi partono un po' anche da Napoli, perché ho avuto delle belle collaborazioni con il maestro Enzo Rossi, poi i miei concerti spesso io li divido insieme a Tony Sposito, non so se mi spiega, no, Tony è un fratello, anzi, guarda, ciao Tony, Tony è proprio un fratello, un fratello, un fratello, le voglio tanto, tanto, tanto bene, e abbiamo scritto delle cose insieme, facciamo i concerti proprio con il mio service, proprio con le due band, e poi insomma, all'epoca, chi lo va pazzo per te, è un caro amico, anche lui, Tempi di Sanremo, poi vabbè, insomma Napoli è il blues italiano, è il posto proprio come la New Orleans, è il centro, diciamo, della creazione, proprio quella vera di cuore dell'America, e Napoli, secondo me, è il cuore musicale italiano, ecco, che batte forte, forte, e ci sto bene io a Napoli. Infissi PVC Aluplast, Stimferro Cervinara, telefono 0824 84 47 31.